Oggi, rapine in banca, Ferre Uuuuh, finalmente c'è qualcosa che mi piace, Steph! Dove iniziamo? Allora Cosa devo fare, Steph? No, 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 vieni qua Allora, no, equipaggiamento, inizia Uuuuh, bello, Steph, ma che filo di roba Qua Ti ho preso tutto Vieni qua Dai, la brava, la brava Aspetta, mi sto equipaggiando Ecco qua Guarda che cos'ho Allora Lo so bellissime Sì, ma posso spiegarti cosa devo fare? No, andiamo dritti No, non si va dritti nelle rapine in banca Perché? Si studiano e si pensano Allora, banca numero uno Ok Banca numero due Ah Banca numero tre Addirittura Preparate da Animals Più andiamo avanti Ovviamente Più diventano complesse Questa, credo, che ufficialmente sia la prima sfida Tra noi due Contro Eni Cioè, proprio Steph e Ferre versus Eni Perché Lui ha preparato la sicurezza Lui ha preparato tutto ciò Per non farci rapinare le banche E noi lo dobbiamo distruggere Eh, ma lui è anche Molto furbo a preparare le cose Mettiamo là così Per non dire cattivo, ok? Già quando normalmente nasconde Che ne troviamo Vabbè, proviamoci Appunto Perché ovviamente noi non è che sappiamo dove stanno le cose Ogni volta ci frega E figurati Allora, facciamo così Facciamo così Ferre, tu Perché hai la spada più bella della mia? Vabbè Masciamo a perdere Se ne avessi una Allora Dici che qua? Ma sto coso non serve a nulla O forse serve a per cose dopo Mi sa che qua bisogna semplicemente usare il piccone Ta 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 E basta? Sì, sì Dobbiamo rubare Rubare tutte le ricchezze Rubare E prenderci tutto Cioè, ma no Non può essere così semplice, Steph Beh, certo Ferre Io mi sto guardando intorno Perché secondo me c'è qualcosa che non quadra Ferre, guarda il tesoro Carbone E ferro Eh, appunto Eh, scendi in miniera tre minuti E è già tutto questo Spiegami che tesoro è E quindi la banca fa schifo Capisci? Non sei convinta? No Hai paura? Ti aspettavi più azione all'inizio? Eh, sì, a voglia Beh, ti garantisco che la parte 2 e la parte 3 sono Cioè, solo questo dobbiamo prendere solo questi minerali? Sì Finito Ma ci sta sottovalutando allora No, è semplicemente la banca da nabbi, Ferre La banca povera La banca da nabbi Beh, in effetti La banca semplice Sì, come si dice il banchiere Non so come si chiama Il proprietario della banca Basta che gli abbiamo detto No, non è una pistola E lui, ah, va bene, ciao Vai, andate Cioè Infatti Ma fidati Proprio per dimostrarti quanto poco intelligente Guarda Anche dalla faccia si vede Che poi è un villager Vabbè Sì, è vero, l'ho notato adesso Un villager con i vestiti Grazie di tutti i suoi tesori È una parrucca non molto nascosta Arrivederci Allora Banca numero 2 Secondo me adesso si inizia Punto 1 Quelli sono dei poliziotti Punto 2 Questo è un laser d'allarme E immagino che se noi passiamo di qui Questi disgraziati ci attaccano Prova? No Vai No Dai Testiamo, Steph Non testiamo proprio un corno Allora c'è sicuramente qualcosa Per spegnerli Hai qualche idea, Ferre? No, ovviamente Stai combinando qualcosa? No Dove sei passato, Steph? Scusami No, no, continua Come volevo vedere la tua idea Dai, Ferre Tu fai sempre chiasso Ma hai sfondato tutto Vai via Sono qua Ma dove sei passato? E qua c'è il vetro rotto Ah Cioè ma ti sembrava modo? Ferre Ssh Smetti di correre Allora Se vuoi stare Non è il modo giusto Dove vamo? Vedi abbiamo questi Dobbiamo togliere Se vuoi stare com'è Fai silenzio Questi per togliere il là Vado a vedere se funzionano Ok, vai Vediamo se posso tagliare Voglio fare le cose bene, Steph Non mi rompe Io le sto facendo bene Allora, così Ragazzi ma la pestano Ve lo dico No, non mi pestano Guarda Adesso la pestano malamente Ma che? Non capiscono nulla Bella il tuo sistema Non serve a fare le ricavi, no Gli tiro un carbone in testa Qui Guarda quel maledetto Dove sta finendo? È troppo semplice così, Steph Mi sembra strano Ok Ho capito Ho capito Ma se io buco da qui? Ok No, però Questa volta voglio rimanere leale Praticamente C'è il portone qua Però è bloccato da questi blocchi Quindi dobbiamo spaccare tutto E c'è dell'ossidiana Quindi ci vuole parecchio Per riuscire ad aprire il portone Aprendo il portone Possiamo sgraffignare tutto I poliziotti non vedono un gran che Sinceramente me li aspettavo Decisamente più pericolosi Mamma mia quanto ci vuole per sta roba Lo so Buca questi qua però Secondo me gli altri non servono Quali? Non ne sono sicuro Vabbè Continua quello Tranquilla E non fa bene Sì sì va bene Dai che vuoi È tutto a posto Quello lo sto facendo io Ok no Dobbiamo fare tutto Vai 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 Veloce Porca miseria Speriamo non ci notino Che poi comunque abbiamo una spada Secondo me è sufficientemente forte Per ucciderli Però non lo voglio scoprire Perché magari sono fortissimi Vado? Ok ma secondo me dobbiamo parlare anche con questi Speri Ok Con chi vuoi parlare? Che è una banca super mega sicura? Boh Spiegami E ora E ora rubiamo È tutto troppo semplice Steph Non è semplice Sì invece Forse per te sapete una novità a farti pensare Adesso la terza la fai tu Sì non mi piacciono i tuoi modi Ok allora la terza decidi tu Sono noiosi Noiosi Bisogna cercare di eludere le trappole La sicurezza Raga è noioso ma guardate come ne mentre si prende i tesori Ma non mi piace neanche la redstone e il gold Io voglio solo i diamanti Steph Al massimo gli smeraldi Ok? Il gold è buono È un bel colore No fa schifo Non ti fa schifo Uno non mi piace il colore Io odio il dorato in generale Va bene Ok Ok E due non serve a niente in Minecraft Quindi voglio i diamanti Ok E anche la redstone non mi piace Mi interessa Andiamo qui Va bene va bene Allora raga la terza la deve fare lei Io non faccio nulla ve lo dico già Vieni qua Chiudiamo Così Esatto Passiamo da qui E guarda siccome io comunque sono una persona di quelle gentili Riparo pure con questi Bravo Sì bravo Grazie a cosa di nessuno se ne accorge Dal vetro al ferro c'è poca differenza Allora Terza banca Vediamo questa terza banca La più complessa Che non sia semplice È mosso in cavolo di ferre Vediamo che tattica attua lei Questa Ok funziona Cosa Funziona Ok Abbiato qualcosa Non lo so Forse Dobbiamo trovare No non tornano rossi Per cui ho detto Magari una sorta di combinazione Ok Invece no Ok Secondo me Secondo te C'è qualcosa di nascosto Ok c'è qualcosa di nascosto Sì Allora sono quattro poliziotti Quattro poliziotti Ok Nessuna alla reception Nessuna alla reception Ok Sto facendo il giro Ok Sto facendo il giro Ok Sto esplorando Vediamo un po' Quale sarà la sua grande tattica Noi siamo soltanto degli osservatori questa volta Quindi ci guardiamo il momento Ma neanche qui ci sono i diamanti secondo me Vedo dell'oro Della redstone E appunto Mi sembra strano Forse oggi ferre non sarà felice No infatti Potrebbe essere Ogni volta mi devi deludere Guarda Mi convinci che se è una bella giornata Invece mi deludi sempre Stiamo rappinando delle banche È una delle tue cose preferite Sto ho togliato questi cavi Sì O quello che ho fatto Ok Cioè deve succedere qualcosa no? Beh ho visto Ma ci sono anche le videocamere Non ci guardano Ehi Credo ci abbiamo già guardato diverse volte E che fra un po' ti chiamano la SWAT E ti imprigionano Come giusto che sia Io ci provo Ok Non è successo niente Sto dammi una mano Dai è ovvio che si entrerà qui Comunque questi poliziotti Sono degli imbecilli Sì Quello senza dubbio Fere Cioè Tu ti sei lamentato dei miei metodi E adesso sei incastrata Spiegami che cavolo vuoi Perché è troppo facile Picolare fare le robe Raffinare una banca Passiamo da sottoterra Vieni Ah Lei si è Sottoterra Porca miseria Fere ma come ci hai pensato? No ma Me lo spieghi dai Vorrei saperlo Mi dici la tua idea Come ti è molto in mente Passando da sottoterra Hai visto un sacco di film Non voglio rompere le lampade Quindi vorrei Cavolo ma è pieno Non volevo rompere le lampade Capisci? È perché comunque è una che tiene all'ambiente Lei Sì Ovviamente Quello si dovrebbe Vabbè Devo rompere le lampade Ecco Deve rompere le lampade Ci sei? Sì ci sono No non ci sei Perché poi devo andare di così Di così Ok Ok Ah è già più intelligente Di quello che hai fatto te In che cosa? Ci hai messo solo più tempo Ti tagli i capelli Spiega Spiegami in che cosa Devrebbe essere Più intelligente Cara Spiegamelo Allora Non fanno niente Sti qua Sicura? Allora portiamolo qua Uccidiamolo Vieni Vieni qua Allora Steph Qui c'è un botto di roba Aspetta Che stai a fa? Non ti guardano Ti hanno pestato prima Ma dai Mi ha dato solo Uno schiaffetto Non era nulla E allora stendili Visto che ci sei Ok Tanto che non fanno nulla Dai fammi vedere un po' Almeno mi diverto oggi Almeno mi diverto oggi Ecco appunto Così è contenta Vai pesta a tutti i poliziotti Fai a modo tuo Che ti piace fare a botte Io l'avrei evitato Di fare a botte E neanche mi avrebbero notato Questi dannati poliziotti Però dato che va bene così Fai così Te ne mancano altri tre cara Ti vede un po' lenta Mi sa che Devo fare una alla volta Ferrilequino sta perdendo colpi Se mi attaccano tutti assieme Perdo Perché tu stai facendo l'infame Non mi stai aiutando Io sto guardando dalla finestra In realtà Non sono neanche dentro Perché stai fuori Perché mi ricordo lo spettacolo Avevi detto tu Che dovevamo fare a modo tuo Questa volta E quindi Io sono un osservatore Ok Manca altri due Comunque sì Sono proprio un po' Un po' tontazzi Sono inutili Molto tonti Li pagheranno poco Li pagheranno poco Allora Se ci vuoi battere Devi trovare di meglio La prossima volta Ok che vuoi pagare poco Le persone Però Allora qui c'è il codice Vedi che si fa più interessante Dove possiamo trovare un codice Steph Non ho idea Steph Dimmi Ferri Ho notato ora che Nel mio inventario Avevo il libro Ma hanno dato i puliziotti Che ho fatto fuori Ok E c'è il codice per la porta Io sono tre E' piena di oggetti Non rompere le scatole Notatore Tre minuti che giro Ferri Tre Mi dispiace Tre minuti Mi dispiace Allora qual è il codice Lo puoi scrivere Sì 8232 Vai 8232 Ok Ok Aspetta ma Ah E' una stanza Prima del Oh no Spera Ma dobbiamo bucare tutto No Ferri Porca miseria Questo è perché vuoi fare Le cose pulite E che volevi fare Certo che si deve rapinare Per bene la banca Non rompere Buca tutto dai Ma non c'era un puliziotto Qui in zona L'avevamo visto dall'altra parte Sparito Ma Ferri non credo Quando hai visto un puliziotto Scusami Io non ho visto Prima quando hai bucato Dall'altra parte Tu c'era un puliziotto Non ho mai bucato Dall'altra parte Ferri Ti stai riconfondendo Con la banca di prima No Steph era questa Ascoltami Fammi uscire da qui Se lo faccio vedere Puoi bucare Col tuo bel piccone No Fai tutto tu Ferri ci metto una vita Così pare di arrabbiarti Ferri ti giuro Che se non ti muovi Io me ne vado E ti rapini le banche da sola Ciao Steph Così tutto mio Ok ciao Ciao Arrivederci Arrivederci Ciao Chiuditi però eh Anzi aspetta Oh no che manca la polizia Polizia Questa qua mi ha rotto le scatole Non la sopporto più Sono veloce Steph Un po' troppo Mi ti finisci Che utensili ha lei Mi scusi Molto forti Questa perché ti danno sempre le cose più forti rispetto alle mie Allora me ne mancano ancora Ah che noio Io te la ho Io voglio andare a vedere l'altro polizia Aspetta Sì vai a vedere Vai a vedere Faccio un giro qua Io sono sicura che c'era un poliziotto Ma non hai ritappato Non avevi Cavolo non ci capisco più nulla Muoviti e finiamo Ma Stai ritappando Cosa Tutto quanto Cosa stai dicendo Fere Ma se sono uscito da qui non c'è più nulla Ah ma lì certo che ho ritappato Se no ci notavano Maledetto Usa le porte 8 Cos'è 8 3 8 2 3 2 Maledetto Dai Steph Che noia Toglilo Non lo tolgo io Muoviti Muoviti Sto mirando Dammi un attimo Porca miseria Che noiosa ragazzi Che noiosa Mescola da qui Opla Ok Oh cavolo Steph sono in cazzo Allora Perché non posso aprirlo? No No Non si apre Non l'ho bagato con questi Cioè mi sa che devo fare ancora qualcos'altro per aprire Può essere No dai Vi prego Io volevo solo trollare a Fere Dai Fere puoi venire Forza Fatto Sì Ok Muoviti Il problema è che non so aprirla Quindi non so bene che cavolo dobbiamo fare È troppo complessa Vedi? Non è che dobbiamo spaccare Aspetta Sono passato attraverso Pure io Fare Oh cavolo Ecco dove erano i poliziotti C'avevo ragione Brava Complimenti Vorrei un applauso Te lo faccio Clap 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 Che brava Porca miseria Quanto siete forti E basta Ok 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 E ora Abbiamo finito Steph Del tesoro Eh sì Fere Cioè perlomeno sembrerebbe Vabbè se non ci sono i diamanti neanche mi interessa a me Controllo Magari qualcosina c'è Wow è un po' deludente Bene l'ultima banca è i diamanti Ci dovevano sta no? Sei soddisfatto così tu? A me piace Ti va bene Ok a posto Quindi tutto tuo Arrangiati Grazie A posto Ti chiamo la polizia Così ti arrestano Perché devi chiamare la polizia? Perché mi sono annoiata con te E se non c'è il tuo tesoro Non è colpa mia Vabbè Oh no È andata così Oh no Un po' delusa sì Un po' delusa Eh vabbè ragazzi È un po' delusa È un po' delusa Ti uccido Mi uccidi? Ok Vabbè io faccio l'outro Mentre continuiamo a prendermi tutto il tesoro Io sono felicissimo Ok abbiamo finito È andata Allora questa è stata più divertente Dai Mi faccio una casa d'oro E sono tutto felice Comunque Ci fermiamo così Siamo riusciti a battere le tre banche L'ultima è stata comunque abbastanza tosta Anche se fosse Per fare che si fosse notata delle cordiche Cioè abbiamo messo molto bello tempo Non l'ho detto Io non ho detto nulla È tutto a posto Peccato Peccato In ogni caso Qua sotto copiare in altri video Iscriviti al canale Campanellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 ciao